Nella mattinata di sabato si è ufficialmente conclusa l'esperienza di Adamo Coppola come sindaco di Agropoli a causa delle contestuali dimissioni di 10 consiglieri su 16. Il gruppo PD guidato dal capogruppo Giuseppe Di Filippo è composto da Pierino Marciano, Gennaro Russo e Franco Crispino, il consigliere del PSI Franco Di Biasi, quello dei 5 Stelle e Mario Pesca, nonché i consiglieri della minoranza Massimo Laporta e Bruno Bufano di Agropoli Oltre, Gisella Botticchio e Agostino Abbate. Salta così l'approvazione del bilancio consuntivo che sarà tra le urgenze del commissario, che sarà breve nominato dal prefetto per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo sindaco e del nuovo consiglio previsti entro il 27 giugno. Coppola affida ai social il suo sfogo accusando la minoranza e i suoi ex compagni di coalizione di bloccare interventi importanti per la città come il bilancio, la rimozione delle alghe e i lavori su Palazzo San Felice. Sicuramente la sfiducia si lega chiaramente alle dinamiche della prossima campagna elettorale che vedrà Adamo Coppola contendersi la fascia con il suo ex assessore Roberto Mutalipassi, il suo ex vicesindaco Elvira Serra, l'ex presidente del consiglio comunale Massimo Laporta e con il rappresentante civico di Liberi e Forti Raffaele Pesce. Ancora in piedi la candidatura anche di Gisella Botticchio, anche se non si esclude la sua possibile convergenza per rafforzare una proposta civica. Saltata invece la candidatura di Agostino Abate per Fratelli d'Italia, il partito sembra sempre più orientato a stringere un patto di centrodestra con Adamo Coppola. Proprio Agostino Abate ha affidato ai social la ricostruzione di quanto accaduto. Quando ho dato la mia disponibilità ad essere candidato sindaco per il partito Fratelli d'Italia, tutti i dirigenti presenti hanno preteso giustamente netta discontinuità con l'amministrazione in carica, meglio definita da tutti i presenti amministrazione Coppola. Tutto procedeva normalmente e in data di sabato dell'altra settimana è venuto in sede l'onorevole Cirielli per un suo saluto. Al termine del saluto sono stato frettolosamente abbandonato da alcuni attivisti locali del partito. Questi hanno accompagnato Cirielli nello studio di un dirigente locale del partito, laddove era presente il sindaco Coppola, che ha concluso con i presenti tutti un accordo elettorale per la sua candidatura a sindaco con la presenza della lista Fratelli d'Italia, che per l'occasione locale avrebbe modificato, meglio adattato, il simbolo. Ovviamente il tesseramento di Coppola e di altri suoi seguaci nel partito Fratelli d'Italia sarebbe dovuto essere la conclusione dell'affare politico. Nessuno mi ha mai comunicato questa decisione fino al martedì successivo, allora quando mi è stata comunicata dai dirigenti attivisti locali e poche ore dopo direttamente dal sindaco Coppola. Ad entrambe le parti ho risposto che il partito Fratelli d'Italia era libero di fare quello che voleva e che dopo la loro scelta io avrei agito in modo altrettanto libero e conseguenziale. Non ho mai accusato alcun dirigente locale del partito e tantomeno chi aveva favorito l'incontro segreto nel suo studio. Ho solo accettato la conclusione della scelta e ho ritenuto di essermi liberato da ogni vincolo morale, politico e deontologico. Se oggi Fratelli d'Italia critica ogni mia libera scelta o decisione vuol significare ancora di più che il partito era ed è fortemente interessato a mantenere in vita l'amministrazione del sindaco Coppola e cioè quella da cui si sarebbe dovuta prendere la netta distanza fin dal momento della mia candidatura a sindaco di Fratelli d'Italia. Ho il dubbio che questi fatti siano stati correttamente riferiti alle altre persone presenti nel gruppo Fratelli d'Italia di Agropoli. Così come ho il dubbio che qualcuno ricordi che per tutti e cinque gli ultimi anni trascorsi sono stato sempre consigliere eletto della coalizione civica ABC e non di Fratelli d'Italia. E quindi solo a questa coalizione civica io devo dare le spiegazioni di ogni mia azione politica cosa che ho prontamente fatto anche perché con questa coalizione ho combattuto per cinque anni contro tutta la maggioranza eletta nel 2017.